Aida Jespica è protagonista di una nuova marcia indietro la modella del GF VIP 2 e ha trascorso gli ultimi giorni a riflettere sulla sua relazione con Giuseppe e Geppi Lama. Quest'ultimo ha infatti inviato una lettera significativa alla concorrente in occasione dell'ultima diretta, spingendola a prendere una decisione forte. Aida aveva scelto di rimanere da sola e non proseguire il suo rapporto con l'imprenditore milionario, conosciuto quest'estate in quel di Ibiza. In seguito ad un nuovo intervento di Geppi Lama, la Jespica ha deciso di ritornare nuovamente sui suoi passi. In questi giorni i fan del GF VIP 2L hanno visto spesso schivare le attenzioni di Jeremias Rodriguez, con cui ci sarebbe stato un bacio dietro la tenda rossa del confessionale. L'argentino continua a ronzare attorno alla modella senza sosta, ma dopo un iniziale confronto è stato debitamente allontanato. Aida Jespica fra Geppi Lama e Jeremias Rodriguez non sono trascorse molte ore dalla determinazione di Aida Jespica nel voler proseguire il suo percorso al GF VIP completamente da sola. La vicinanza con Jeremias Rodriguez ha provocato infatti una reazione forte in Geppi, che in queste ultime ore avrebbe invece inviato un nuovo messaggio alla modella. Il tutto in modo indiretto, grazie alla canzone d'amore che ha fatto da lei temotiva la loro storia. Un evento che ha lasciato inizialmente confusa la Jespica, che in seguito ha deciso di allontanare nuova menor Jeremias. Aida Jespica riceve un messaggio d'amore e il tutto è successo nelle ore serali di questo mercoledì, in cui Aida Jespica ed altri concorrenti del GF VIP 2 hanno sentito delle urla provenire dall'esterno. Un tiamo in cui la modella avrebbe riconosciuto la voce del fidanzato e che ha preceduto l'arrivo di un aereo con scritta romantica. Qui il video del GF VIP 2 con l'aereo inviato da Jepi Lama ad Aida Jespica. Jeremias non lascia Aida intanto, Rodriguez non ha smesso di ricoprirla di attenzioni e di cercarla, con lo sguardo o con i gesti, anche in seguito all'ultima puntata del Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore ha inoltre rivelato alla concorrente di averla sognata nelle ultime ore e pensata moltissimo. Parole d'affetto che Aida ha respinto con un semplice sorriso ed allontanandosi dalla stanza.